Non gli manca il coraggio a quelli là. Sire, il quattrodicesimo di linea ha annientato. Poggiore ha riportato una frica e ha perso 5.000 uomini in 20 minuti. Ci sono notizie del mare Cialoneo? Non sappiamo dove sia, Sire. Gli ho mandato incontro degli esploratori, ma nessuno di loro è tornato. Ebbene, ricominciate. Andate via di qui, Sire. Finché siete in tempo. Non se ne parla neanche. Ci lascerai divorare da quella gente? Vai! Se né i suoi uomini non saranno qui stasera dei 10, non avrò altra alternativa che ritirarmi. Rusci e Berthier formeranno la retroguardia. Fategli sapere che conto su di loro per fermare i russi se ci seguono. Bene, Sire. Però io mi domando se... Se è prudente aspettare fino nei 10 di stasera? È questo che non osate dire? Non ho ancora perso. Signori, l'imperatore ci guarda. Abbiamo l'ordine di fargli vedere di cosa siamo capaci. Sguainate le spade! Con me! Carica! Pensate che basta? No, ma non di meno è magnifico. Non ho ancora perso. Non ho ancora perso. Non ho ancora perso. Ah… Una colonna prussiana attaccata da voi. Dei prussiani? E da dove sono usciti? La lezione che gli ho influito a Iena non gli è bastata. E' il manessalonè? Non l'ho trovato. Fate attaccare la guardia. La guardia? Si so, è la prima volta. Eseguite! Molto bene, si. Punto! Avanti! Marche! Cessate il fuoco e avanzate! Avanti, carica la paionetta! No! Non! Non! Sire, il maresciallo Ney è entrato in contatto con il nemico. Siamo stati vicini al disastro.